Belen e Iannone lasciano l'Italia, la casa Lugano è pronta foto Belen e Andrea Iannone vanno a vivere a Lugano, la foto della casa in Svizzera. Belen Rodriguez e il suo compagno Andrea Iannone hanno superato il periodo di crisi e, contro ogni pronostico, ne sono usciti più unite di prima. Sul numero di Kinedicola mercoledì 24 gennaio compaiono le immagini della casa acquistata a Lugano, la quale è dotata di tutti i comfort di lusso, foto in basso. La coppia quindi ha progetti importanti per il futuro e tale abitazione dimostra la voglia di essere una famiglia come tante altre. La showgirl non è ancora certa di un trasferimento stabile in quanto la priorità è il figlio, nato dalla relazione precedente con Stefano De Martino. La Rodriguez afferma, Santiago ha appena iniziato la scuola americana a Milano, ma ho visto che anche qui c'è una scuola ideale per mio figlio. Nulla quindi è da escludere, potrebbero esserci dei cambiamenti a breve. Belen risponde alle recenti polemiche dei fan. La showgirl argentina nei giorni scorsi è stata al centro di una polemica animata da alcuni fan dopo uno scatto pubblicato sul suo profilo social. Motivo di tale disapprovazione è stato lo outfit indossato durante il battesimo di Brando Andrea, figlio della sua assistente ed amica Antonia. In tale occasione Belen ha indossato una gonna corta e una giacca nera, ma secondo alcuni le sue calze mettevano troppo in risalto le gambe per cui considerata fuori luogo. Alcuni fan le rimproveravano questo suo eccessivo esibizionismo, molti altri invece hanno preso le sue difese, giudicandola molto elegante e adeguata alla cerimonia. Belen, non mi arrabbio più. In merito a tale episodio la Rodriguez dichiara al settimanale Chi, sorrido. Avevo una gonna, una giacca nera e calze spesse 20 denari. Ma dai! Non mi arrabbio più. Belen ormai è abituata alle critiche gratuite per cui ha deciso di dare il giusto peso ad ognuna di esse e di non farne una tragedia ogni volta. La showgirl sa quali sono le conseguenze del mestiere e comprende le opinione altrui sebbene spesso possa non condividerle. Grazie per la visione!